Ciao cari amici, arriva la notizia dell'ennesima strage nelle Stati Uniti d'America. Ovviamente se ne parla, hanno parlato anche i media qua in Italia, perché sono molto attenti a quello che succede nel paese del loro padrone, anche se, vi devo dire, sempre si parla quasi come di una cosa ormai normale e si sposta l'attenzione, a mio avviso, dal problema reale a una specie di questione parafulmine. Adesso vi spiego cosa intendo. Così, ad esempio, io ho seguito stamattina mentre aggiornavo il mio canale privato Telegram con ultime notizie, stavo preparando, traducendo quelli che sono i materiali arrivati dal Ministero della Difesa russo per la questione ucraina, quello che sta accadendo in Israele, quindi traducevo queste cose e mentre traducevo, facevo una carellata di notizie o, come spesso le chiamo, bagianate che cercano di rifilare i nostri media ogni giorno. E ho trovato su diversi canali, giustamente, questa notizia di questo pazzo ex marine militare, che cavolo è, che ha ammazzato 20 o più di 20 persone. Insomma, io particolari li ho tralasciati perché sinceramente non ha, a mio avviso, importanza. Importante è che si tratta ormai di un comportamento sistematico che viene rilevato in una parte della popolazione statunitense e mentre qua si parla, si continua a parlare della colpa della legge per gli armi, io continuo a sostenere che la questione della legge delle armi, cioè il eccessivo permissismo che c'è negli Stati Uniti d'America nella questione di acquisto delle armi da fuoco e anche armi da guerra, perché in alcuni stati e negli Stati Uniti d'America si può acquistare vere e proprie armi da guerra con il regime full auto e così via. Il problema non è questo, questa è una circostanza, cioè le armi è una circostanza. Il problema vero è la totale assenza dell'etica e della morale nella società statunitense. Gli Stati Uniti d'America è un paese dominato da dio denaro dove c'è un nichelismo che è stato trasformato in una forma di filosofia di vita, di religione ufficiale, cioè il paese dove ormai da generazione le persone che nascono, che vengono al mondo e che vivono non hanno delle basi culturali per poter sviluppare i sensi, i sentimenti umani come ad esempio misericordia o altri importanti sentimenti e queste persone vengono mantenute in vita da un rigido sistema di consumismo. Ovviamente tra varie persone, tra varie tipologie di mentalità ci sono quelli che all'interno di un meccanismo così disumano compiano di atti estremi e sicuramente in queste situazioni il fatto che ci sono le armi facilmente acquistabili aumenta il pericolo. Però io sono sicuro che se non ci fossero le armi i cittadini statunitensi sarebbero in grado di ammazzare i propri concittadini utilizzando gli attrezzi da carpintiere ad esempio, oppure da cucina, oppure ammazzare la gente a mani nude. Il problema non è nelle armi, le armi sottolineo è una circostanza, il problema vero è nella totale assenza dell'umanità nel meccanismo statunitense. È un paese che esporta il proprio modello a suon di bombe in giro per il mondo, un paese che ha massacrato più esseri umani di tutti gli altri paesi messi insieme nella storia dell'umanità. Ciò che ha fatto il sistema statunitense nel secolo scorso e all'inizio di questo secolo supera qualsiasi livello dei massacri nella storia dell'umanità. L'umanità non ha mai arrivato a un tale numero di massacrati, di persone massacrate, ma proprio per il livello numerico, eravamo molto di meno. All'inizio del secolo scorso eravamo 1 miliardo e 200 milioni, verso la fine eravamo già 7 miliardi, di più di 7 miliardi. E ovviamente anche l'intensità della guerra, l'utilizzo delle armi, i meccanismi di distruzione degli esseri umani sono migliorati, aumentati ed è aumentata la capacità del sistema militare di distruggere gli esseri umani. E gli Stati Uniti d'America sono paese numero uno nella esportazione di questo tipo di tecnologia e nell'applicazione di questo tipo di tecnologia in giro per il mondo. Quindi quando a me parlano del fatto che l'ennesimo militare statunitense è svitato, perché è stato inserito in questo meccanismo disumano che si chiama l'esercito statunitense, perché è stato sottoposto all'utilizzo delle droghe, perché sappiamo che la gran parte dei militari statunitensi si droga quando vanno nelle operazioni, quando vanno in guerra, questi si drogano. La stessa cosa tra l'altro commettono in Ucraina. Adesso la gran parte dei militari ucraini si drogano, utilizzano metanfitamine e droghe sintetiche. In effetti in Ucraina è nato anche proprio il modo di chiamare questa gente, li chiamano i soldati di sale, sale perché loro prendono i sali, i minerali, questa droga che assomiglia ai minerali. Io di recente ho pubblicato sul mio canale privato Telegram, tra l'altro chi è interessato, chi vorrebbe approfondire le notizie che non danno i nostri media. Io invito di abbonarvi al mio canale privato Telegram, il link per l'abbonamento troverete nella descrizione di questo video. Comunque ho pubblicato un interessante approfondimento che ha fatto una prostituta ucraina, pensate, una donna ucraina che si prostituisce, una giovane donna. Si vede che ha perso pazienza. Ha fatto un video in cui ha denunciato il fatto che molti dei suoi clienti militari ucraini che tornano dalla prima linea e subito vanno ovviamente a riempire quell'enorme vuoto che si crea in guerra, cercano di riempirlo con alcool, droghe, con prostitute, con questa vita, con questa finta di una vita piena di piacere, quando in realtà piacere e la felicità è un'altra cosa. Questo è un tentativo veramente disperato di raggiungere il piacere. Comunque questa prostituta ha fatto un approfondimento che sta dicendo guardate, io mi sono stancata di questa gente, io i militari non li rispondo più neanche ai militari sui miei social, se cercano di entrare in contatto con me io li blocco subito, io non voglio più lavorare con loro, io piuttosto lavoro con altre persone, ma questi soldati di sale che arrivano dal fronte e vengono qua da me e poi mi picchiano, mi maltrattano, ha raccontato che uno l'ha cercata di strangolare, un altro l'ha picchiata, terzo l'ha tenuta terrorizzata tutta la notte, tra l'altro aveva un'arma da fuoco e ogni tre minuti le arrivava e le metteva la pistola alla tempia e le minacciava di uccidere, insomma questa qua dice ma io con gente così, con gente svitata che poi non è uno, sono tutti così, lei dice io non ho trovato neanche uno sano, tutti quelli che tornano da lì sono pieni di droga, ormai la mente totalmente è andata, il controllo non ce l'hanno e si comportano in questo modo, quindi questo è il modo di comportarsi che gli ucraini hanno preso non dall'esercito sovietico, perché nell'esercito sovietico non c'erano queste tecnologie di utilizzare le droghe, le anfetamine, questi sali e queste schifezze, lì al limite si beveva un bicchiere di vodka e si andava all'assalto, che è una cosa comunque insana, come tutta la guerra è insana, però tra vodka e la droga penso che la differenza è abissale, comunque quello che è oggi la problematica principale degli Stati Uniti d'America è che questo paese con il sistema che ha creato genera delle bestie che si comportano da bestie e di questo bisogna parlare, non del fatto che hanno le leggi e delle armi, sì questo è anche un problema, ma un problema circostanziale, il primo e grande problema è che negli Stati Uniti d'America c'è un sistema che crea questi mostri, persone che uccidono altre persone deliberatamente, d'altronde cosa volete da un paese che nella sua storia non ha fatto altro che stragi e ha massacrato tantissime persone innocenti in giro per il mondo e adesso sta facendo stessa cosa in Ucraina, adesso ha cominciato anche in Israele, insomma a mio avviso tutto questo comportamento, tutto questo nichilismo si ritorna negli Stati Uniti e punisce la società statunitense attraverso questi comportamenti di questi mostri, ammazzando persone innocenti perché sottolineo qua si tratta di morte della gente che non ha fatto niente di grave, non è una punizione per qualcosa, semplicemente azioni di questa gente inferocita, trasformata nei mostri da un sistema mostruoso. Carissimi, se volete approfondire, se volete magari conoscere altre notizie che non ci raccontano, che non approfondiscono, trovare interessanti punti per ragionare, io vi invito di abbonarvi al mio canale privato Telegram, il link per l'abbonamento troverete nella descrizione a questo video e io vi invito di informarvi perché adesso in questa situazione l'informazione è la vera rivoluzione, se volete fare qualche gesto rivoluzionario iniziate da voi stessi informandovi al dovere perché senza informazione obiettiva, senza informazione a 360 gradi è impossibile creare la propria opinione. Amici, inoltre vi ricordo se volete sostenermi qua su YouTube io vi invito di iscrivervi al mio canale, commentare i miei video, condividere i miei video con i vostri amici e vi ricordo che in tutte le librerie d'Italia c'è il mio libro che si chiama La guerra e l'odio, si tratta di un libro che racconta le origini della guerra in Ucraina, quindi se siete interessati a questo argomento leggetelo e poi fatemi sapere cosa ne pensate. Vi mando un forte abbraccio e vi voglio bene!